Cari amiche e cari amici vorrei chiarire il mio discorso sull'unità dei cristiani perché vedo che sono stato frainteso. Di chi è la colpa? Se c'è una colpa è quasi esclusivamente mia, però spero con questo video veramente di fare chiarezza, prendendo spunto da alcuni vostri commenti che mi hanno portato a fare questo video. Nino Ninetto, che è carino, ha già nickname e mette allegria, dice Ma lei ha mai spiegato chiaramente qual è la sua proposta editoriale, ovvero il frullato delle tradizioni. Gesù ha incaricato gli apostoli di convertire il mondo e ha prefigurato l'inferno per chi avrà udito la parola e non si sarà convertito. Lei sa bene che il cattolicesimo è compatibile col sincretismo, quindi di cosa si meraviglia? La sua impostazione è ambigua. Molto spesso sembra fomentare il radicalismo insi da una tradizione cristiana addirittura nobilitando le crociate e l'inquisizione per poi proporre altri modelli con essa inconciliabili. Prima cosa addirittura nobilitando le crociate. Le crociate, studiate la storia, vedrete che sono stato un fenomeno più che nobile. Se si conosce la storia, se si va per luoghi comuni, le crociate sono qualcosa di orribile. Comunque, vado avanti perché non è questo il tema del video. Un altro scrive Giuseppe Moroni Prima di invocare l'unità tra i tradizionalisti ne dovrebbe dare una definizione, ad esempio l'ognosticismo è una tradizione antichissima, lei propone unità tra cattolicesimo e gnosticismo? Poi c'è Nascituri Freestyle che cerca di rispondere a questo e dice Si chiama capacità di analisi super partes, cioè quella del decimo d'oro. E poi dice Ma lei, riferito al commento che ho letto prima, si rende conto della particolarità di questo presente, della velocità con la quale la situazione va a scatafascio? A me sembra che i canali decimo d'oro siano portatori di un sano pensiero critico, costruttivo, analitico, intriso di una costruttiva attitudine propositiva rispetto alla situazione sociale e ai suoi contingenti aspetti metafisici. Gli effetti collaterali di una mancata apertura mentale nuociono alla possibilità di un sano dibattito e una dialettrica costruttiva. E sono perfettamente d'accordo. Poi continua, continua sempre in un altro post, sempre lui Nascituri, Mac Freestyle. Ma non fa sincretismo al decimo d'oro, si chiama cultura, fare analisi comparate delle tradizioni confrontandosi a livello dialettico riguardo i suoi molteplici aspetti è una cosa diversa da creare una dottrina di stampo sincretista. Anche questo è vero. Però io adesso voglio puntualizzare bene qual è la mia posizione perché vedo che il fraintendimento è ovunque. Allora, io conosco, vedete qui sotto per esempio, no, c'è io adesso, vabbè, forse non riuscite a leggere, no, quella è rosso e nero che vedete, c'è scritto Ari Krishna e me l'ha regalato un mio amico induista, va bene? Poi ho tanti amici induisti, ho due amici Sikh perché oltretutto mi piace molto parlare e confrontarmi anche con le altre religioni. Alcuni miei amici entrarono tanti anni fa tra l'altro con gli Ari Krishna ho amici buddhisti, tra questi anche l'amica che mi regalò il famoso Buddha che ha suscitato tante polemiche e ovviamente tanti amici cristiani che qui sono la maggioranza. Gli islamici ad esempio, gli islamici che io conosco che sono circa una decina che hanno dei negozi qui intorno a me e vado proprio da loro perché sono bravissime persone non stanno lì, vabbè, insomma, sono bravi persone e mi trovo bene come cliente. E mi piace parlare con loro anche e loro hanno un rispetto incredibile per i cristiani. I cristiani, i cattolici, al 90, anche 95%, non li sopportano gli islamici o li ritengono proprio inaffidabili, ritengono che stanno lì a fare giochetti ma che in realtà non pensano altro che fomentare odio per i cristiani. Questo non è assolutamente vero. Tra l'altro alcuni li sto conoscendo anche meglio, Anniè che sta facendo questa bellissima realista su Maria, sulla Madonna e anche i miei amici, per esempio, gli Ari Krishna, qualcuno di voi avrà conosciuto, sono molto settari gli Ari Krishna, ma non provano un minimo di odio, di antipatia per i cristiani, assolutamente, proprio neanche un minimo. Stessa cosa con gli islamici che conosco, che oltretutto, esattamente come Agnet, parla benissimo della Madonna, anche loro mi hanno sempre accolto benissimo, sono molto aperti e così. E i buddhisti, poi, e così anche come amici, perché poi dipende anche dall'approccio che ha con le persone, perché non è che poi conosco solo amici religiosi, conosco anche laici e atei e così via. Però, gli unici che conosco, che veramente sono tutti contro tutti in tutti i sensi, contro le altre religioni, non hanno un minimo di rispetto, sono presuntuosi perché pensano di essere superiori, solo loro saranno salvati, tranne che se uno si converte a un punto di morte oppure si si affide allo spazio, sono i cristiani, in particolare i cattolici. I cattolici sono quelli che ovviamente conosco meglio. I cattolici parlano sempre, hanno sempre l'amore in bocca, hanno sempre Gesù in bocca, dicono sempre di essere grandi peccatori. Questa è una cosa che mi ha colpito, l'ho detto anche in qualche video. Ma io sono il più grande dei peccatori. Poi, se gli segnali un peccato che loro fanno, non che sei il più grande del peccatore, ma su questa cosa sbagli, guarda che è peccato avere questo atteggiamento, ad esempio non perdonare, non incapunirsi, si arrabbiano, si inorgogliscono. Quindi hanno sempre in bocca la parola amore, la parola Gesù e così via, ma sono i più intolleranti. Si odiano. Ora, questo è chiaro che non vale per tutti i cristiani cattolici, però, diciamo, oltre il 90% sì, ve lo garantisco. E vedete, io ho molto a che fare con i cattolici. Sono intolleranti, sono arroganti, pensano di avere sempre loro la verità. Poi, se sono maestri della legge, se hanno pure studiato teologia e sociabilitari, ancora peggio. Quindi, uno, quando io dicevo perché questi si odiano tra loro, qualcuno ha scritto, no, beh, non si sopporteranno, ma non è odio. No, è proprio odio. Si odiano. Tradizionalisti o tradizionalisti, si odiano. E così Bergogliani con i tradizionalisti, i separatisti, si odiano, si odiano, però un odio enorme. Perfino una persona che, io avevo fatto un esempio in un video, cercando di far capire, ma se una casa va in fiamme, cioè stanno magari dentro, mettiamo dei bambini, un asilo, una scuola materna, sta andando in fiamme. Se uno va lì con i secchi d'acqua, che ti metti a chiedere, scusa, ma tu che sei, cristiano, sei cattolico, sei di destra, sei di sinistra, te ne freghi, stai lì e getti acqua, cerchi di salvare il salvabile. Allora, il mio discorso, che è anche cinico, non è un discorso buonista, anzi, penso che sia anche abbastanza cinico da questo punto di vista, però, allora, perché invece di odiarsi tra cristiani, tra l'altro la persona mi aveva fatto i complimenti, ottimo esempio questo dell'incendio, si è appresa pure lui con me, tra l'altro, vabbè, comunque, io dico tutto, io ho capito che non ci può essere una pacificazione, perché tra questi l'odio è veramente profondo, quindi io potrei collaborare con un hinduista, con un buddista, con gli islamici stessi, con cui colopero e collaboro, con i cristiani, è impossibile, perché hanno il paraocchi e sono fondamentalmente degli odiatori, sarà per il fatto che adesso manca il vertice, quindi a Roma, ma non solo a Roma, c'è quel detto che il pesce puzza a partire dalla testa, quindi mancando il vertice, l'esempio e così via, è tutto quanto un grande caos. Allora, il mio discorso, perché cinico? Perché dico tutto quest'odio che avete, io non parlo di sincretismi, di pacificazione, nel senso di far conciliare l'ognosticismo e fonderlo con il protestantesimo e fonderlo con il cattolicesimo, mai pensate una cosa del genere perché è impossibile e perché ognuno conosce i suoi polli e questi sono proprio i polli di Renzo su cui ho fatto un video, che come possono, si beccano, si odiano. Il mio discorso, perché cinico? Perché dico, perché non indirizzare quest'odio verso un nemico comune? Così ve l'ho detto, papale, papale, chiaro e tondo. Ci stanno adesso, chi ultimamente ha preso in Gesù Pai farò un video, mi richiederà preparazione questo video, quindi lo sto preparando, mi ci vorranno alcune ore. Quindi aiutatemi pure qualche contributo, io lo ripeto solo qui perché sul canale interviste per rispetto agli ospiti non lo dico, ma io lavoro tantissimo, almeno dieci ore al giorno me l'ho detto, non è una cosa per dire, è così. Comunque, tornando al discorso degli odiatori, tutto quest'odio c'è nei cattolici, fondamentalmente. Allora, se io devo chiedere a Agniette, per esempio, Agniette, che è l'islamica che sta parlando, la musulmana, questa ragazza che sta parlando, no, di Maria, trovo immediatamente adesione, ha lottato per la Madonnina e così, anche altri islamici qui, non c'è bisogno di convincere nessuno, perché loro hanno perfettamente chiaro che il pericolo è il pensiero unico. Tant'è vero che quando si sono riuniti al Colossale, alcuni di loro li conoscevo, stanno lì a pregare con l'immamma, col megafono e tutti, polizia e tutti, nessuno gli ha detto niente, erano a sembramento, senza mascherina, inchinati a pregare, perché nessuno gli dice niente? Perché sanno che sono rogne se vai lì a rompergli le scatole, perché il sacro non si tocca, punto, e non ci stanno mascherate che tengono, punto, va bene? E quindi, se io parlo a loro di un nemico che ha il pensiero unico, lo capiscono perfettamente, non è che ho bisogno di dire uniamo le forze e cose del genere, perché loro già lo fanno, e così gli induisti, e così tutti, gli unici che stanno a beccarsi tra loro sono i cattolici. E allora io dico, so che non si può fondere l'ognosticismo con il cattolicesimo, col protestantesimo, ma perché la proposta che fece all'inizio è ancora non stavamo in questo inferno, perché non indirizzare l'odio contro il nemico, che non è Marco Cosmo, come qualcuno ultimamente ha indirizzato l'odio contro di me, si odiano tra loro, tradizionalisti contro tradizionalisti, bergogliani contro minutelliani, si odiano, non è che non si sopportano, si odiano, si odiano, mettiamolo in chiaro, io lo so riconoscere qual è l'odio, ho la barba bianca, qualcuno ha detto, addirittura odio, non si sopporteranno, no, si odiano. E allora io dico, perché non convogliare questa energia di odio, mi pare un discorso molto razionale, anche se è cinico, contro il nemico vero, che non è né Marco Cosmo, né i protestanti, né gli islamici, né gli induisti, è il nemico vero, il pensiero unico, i padroni del mondo, che ci stanno costringendo tutti con questo pretesto di st'influenza, ma vedete i cattolici, questo sarà il terzo anno che non si celebra il Natale, vi tengono chiuse le chiese, vi tengono, tutto normale per voi, Gesù vieni presto, vieni presto Gesù, no, bisogna unirsi e lottare contro il nemico comune, io parlo di questo tipo di unità, non di sincretismi strani e cosa, indirizzate il vostro odio dalla parte sbagliata, tu che indirizzi l'odio contro i bergogliani e contro l'unacumma, facciamo una pacificazione da questo punto di vista e diciamo, qua, è come bambini all'asilo che bruciano dentro, è inutile sta a vedere tutte queste divisioni, c'è qualche cosa di urgente, perché se no, questi qui ci fanno fuori a tutti, loro mirano una religione universale che disintegrerà tutte le tradizioni, poi voglia di, ma il signore verrà, farà, cos'era, quello che vi pare, qui, per questo dico l'appoggio a Viganò, Viganò parla, infatti lui non si pone, si mette a dire il Papa è questo, il Papa è quell'altro, dice, c'è un pericolo, c'è un pericolo e io mi abberto del pericolo, punto, non è che parla convertitevi, sta dimostrando che c'è un pericolo a tutti, per questo può essere un riferimento, ma io non è che c'è il mito poi di Viganò, lo stimo come persona, lo stimo tantissimo e sta prendendo quel coraggio che chi lo criticava tanto dicendo al pastore deve stare in mezzo alla gente, adesso se ne sta bello nascosto perché ha visto che non sempre si può stare in mezzo alla gente come uno vuole e si mette la mano sulla coscienza chi ha detto queste cose, quindi l'unità che io propongo è un'unità di intenti contro il nemico reale che è quello che sta disintegrando tradizioni, religioni e che vuole stravolgere, distruggere la famiglia, stravolgere il senso della sessualità, andarla perfino a insegnarla ai bambini piccoli proponendo una dimensione che a loro non appartiene, quella è il nemico, non è Marco Cosmo, che cavolo continuate a criticare me, è quella l'unità che io propongo, indirizzate il vostro odio, io personalmente non odio, non ce lo vedete che io riesco a parlare con tutti gli islamici, cose tradizionalisti, cose, siete voi cattolici gli odiatori primari, non so gli islamici, questa è un'altra cosa che c'è nella vostra testa, ma che non c'è, nella realtà, io con quelli islamici ho ottimi rapporti, ci parlo tranquillamente, è voi il casino, ognuno contro l'altro armato, allora dico, uniamoci nella lotta comune, questo è il messaggio che voglio dare, il decimatore interviste è un canale straordinario, ho appena fatto un'intervista con Pagini che è bellissima, però poi quando parlo in privato, a destra, a sinistra, ci stanno sempre questi odi, queste cose, e lo so perché si odiano, ora non vi posso dire le prove, i motivi portare, ma vi assicuro che è odio, quindi tra amore e odio che scelgono questi? L'amore come vorrebbe essere giù? No, scelgono l'odio, tra il perdono e la vendetta, scelgono il perdono? No, scelgono la vendetta e vi assicuro che è così, fanno tutto alla rovescia e poi criticano gli altri, compreso me, ma che vuoi fare? Ma è cosa? Ma sta lì? Io cerco di fare nel mio piccolo qualcosa di utile a tutti quanti, chi vuole si unisce alla lotta, chi vuole sta lì a fare il cappone di Renzi a continuare a beccare? Beccatevi, che vi devo dire? Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.